un sito dove ci sono veramente tanti giochi di bilato, di fattoria come volete lo cercate il sito e allora il sito è pochi con la k cliccate questo scrivete questo e inviate questi giochi noi adesso giocheremo a un gioco direttamente se io gioco un gioco a vostro piacere scrivete nei commenti un gioco che voi volete che io gioca in modo tale che noi gioco quello con più like con più cuoricini comunque io metterò a ogni commento un cuoricino iniziamo a prima di tutto un ps scusate guarderci i miei amici qua c'erano due altri due video no anzi questo video qua l'ho già fatto in teoria però poi l'ho cancellato perché praticamente si sentiva male non si sentiva niente niente quello che dicevo quindi mi raccomando mettete dei consigli e iniziamo a giocare e poi giocheremo a giocheremo a un gioco io capito quindi allora io diciamo a questo partite quando muoio muoio il video deve durare più di 12 più di 15 minuti quindi se il video è un po' più il video è un po' più di inizia a cosa se sono il video è un po' più di giocare e giocateci e e e c'è da sole sul sito nessuna musica e in modo tale che il video venga bene ok ho capito eh Scusa, lei mi è uscito un nuovo personaggio, perfetto. Adesso facciamo anche la pubblicità, in modo tale che voglio, adesso faccio altri due minuti e poi aspettate, non è facile, ve lo assicuro. Ci sono alcuni sbuffoni che dicono, ah ma è facile, poi muoiono, ma fanno un po' di cura. Ah ma io scusate, non sapevo che era quello, ok. E poi, ma non vi preoccupate, è un gioco, non dobbiamo arrabbiarci con il gioco. Ah, scusate, abbiamo un altro tentativo, non dobbiamo arrabbiarci con il gioco, giusto? Il mio canale è destinato ai bambini, non vorrei dire, anche se ci sono adulti. Bambini, non viene, e quindi, allora, dovremmo arrabbiarci. Ma scusa, ne arrivano due, allora, adesso ho capito, però, non sbaglio più, non faccio lo sbuffone. Ah, niente, la pubblicità, scusate. Scusate che c'è la pubblicità. Qualca miseria, cioè. Scusate. Combat Reloading. Allora, giochiamo un gioco silenzioso, perché c'è. Allora, zinorun. Ludo. Sai cosa? Io? Gioco qua. E... E' rumoroso, sì, è rumoroso. Allora, adesso devo capire come togliere l'audio. Del... Di... Opzioni. Volume. Devo scegliere tutto. Motore save. Certo. E giochiamo. Il nostro volume non si dovrebbe sentire. Non si dovrebbe sentire. Allora, si sente abbastanza come lo dovreste sentire. No, è così. Ok. E... L'amato fa... Scusatemi. Sì, vedete, si sente... No, non lo so. no sai cosa mi piace questo gioco non c'è niente ascolta che fa la domanda ma io voglio non si senta niente cos'è questo? è così va voglio proprio sono salvato mi ha capito adesso non si sente adesso si sente così poco spero che non faccia la fine di prima si sente proprio marea io adesso ho salvato le impostazioni ma non è bene dire perché è da poco che ci gioco si stanno giocando da qui si fanno guadagnare i soldi adesso sta procedendo bene ok sta bene secondo me non c'era si stava da sopra oppure si allora qua c'è allora dov'è ma non c'è nessun'arma che salgo le scale no non c'è cioè non c'è nessun'arma proprio fare una scelta la cosa non giochiamo proprio a questo gioco ma giochiamo a un altro gioco e giochiamo a giocare allora cos'è un genis aspetta che c'è mio fratello signora abbassa il volume aspetta che c'è mio fratello a giochiamo a giochiamo a giochiamo a giochiamo some Scusate che c'era un po' di rispettate, perché stavo mettendo schermo grande, come ho detto io le skin, infatti, questa qua, vegan, ok, questo è molto bello, e comunque vuoi sapere qual è l'obiettivo di sto gioco, praticamente a fare ripare a tutti, ok, e bisogna fare tutta la mappa, per scoccare qualche altra cosa, bisogna farlo piano piano, perché questo supporto, quindi non è vero che puoi stare fuori dalla tua base, pensiamo che ti pare, di massimo puoi stare fuori, massimo 20 secondi, quindi adesso vedete, io faccio così, no? Aspettate, massimo 20 secondi, quindi se io faccio così, Aspettate, massimo 20 secondi, quindi se io faccio così, non è vero che la mia vita è un po' di rispettare, non è vero che la mia vita è un po' di rispettare, non è vero che la mia vita è un po' di rispettare, Grazie a tutti.